Ciao a tutti, oggi voglio fare tallone pump, è un esercizio veramente semplice, ma così efficace per i gag, i turbo gag, per i glutei, proprio lì. Sai quella tacatura sotto la costume, dove c'è quel città che non ti piace? Beh, questa è proprio per quella zona lì. Allora, poggiamo giù, il tallone destro, pieghiamoci, il busto viene in avanti, ancheggio leggermente lateralmente e porto proprio il peso sul tallone, ma concentrerli quasi solo sul tallone, non pensare all'appunto, è quasi la punta del piede libera, ok? E continui a provare di quasi perfurare il pavimento, come se stessi provando di trivelare un buco nel pavimento, ok? Stai cercando il petrolio, ma qua il petrolio sarà un gluteo tuo più bello, più tondo, più tonico. Continuiamo, spingiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, spingi, spingi, lavori su quel gluteo, lavori su il gluteo, come on, come on, come on, lo senti? Ancora grandi sorrisi, perché quando stai facendo qualcosa per il tuo corpo, lo stai facendo per la tua autostima, ok? E la cosa più bella è quando ti senti soddisfatta con te stesso, vedi i risultati, ancora, 4, 3, 2, 1, 2. Altra domanda, sicuramente state dicendo, ah Jill, quando vedrò risultati, quando vedrò risultati? Ricordi sempre che con la costanza tutto viene più facile. Allora, se tu fai questi esercizi tutti i giorni e magari metti 5 minuti, 7 minuti di questi esercizi insieme, magari col canteni 3 esercizi insieme, io ti garantisco che in 3 settimane vedrai il gluteo e l'addominale cambiati, proprio cambiati. E mischi di bene, metti un po' di gambe, gluteo e l'addominale tutti insieme per avere il massimo del tuo allenamento. Quindi tu sarai veramente sorpreso o sorpresa, dipende, come 10 minuti al giorno ti cambierà la vita. Veramente, con costanza il corpo risponde, sempre. Mai visto un corpo con la costanza di non rispondere, perché se io sono costante, lui mi risponde. Continuiamo, 8, 7, spingi sul tallone, tallone ancora, 4, 3, 2, 8, 10, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 e 1. Eccellente, altro esercizio per le nostre gambe, gluteo e addominali fatto, vi aspetto al prossimo allenamento insieme qui a TurboGag. Ok, questo esercizio si chiama un affondo con calcio. Allora portate le gambe destre in avanti e faremo 15 per le gambe ma in questa maniera. Allora, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, spingo su tallone, 4, spingo su tallone, 5, ancora 10, vai, 9, vai, 8, vai, 7, ancora 6. Ok, 5, and up, 4, 3, poi cambiamo gambe, ancora, sorridi. Quindi, and, ultima, si sentono questi eh, si sentono tantissimo, portate le gambe sinistre in avanti, ok, genocchio sopra il tallone e spingo, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, e grandi sorrisi, spingo, 6, vai, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, questo veramente si è sentito, ecco perché si chiama turbo gag e non gag semplice, ok, bravissimi, eccellente questo lavoro di oggi e ti aspetto al prossimo allenamento insieme con la gym, che è un turbo gag. Se chiedi a qualsiasi allenatore sulla pianeta, dice voglio lavorare i glutei, ti darà una parola, squat, fai squat, squat è non finire, squat con carichi, squat è non mi salza. Però io voglio fare una squat un po' diversa, perché le squat ovviamente sono eccellenti, ma voglio fare uno squat particolare. Allora, scendi giù, ok, a questo punto non ci risolviamo più e noi avanziamo, 1, 2, 3, 4 e ci saltiamo, piccoli jump squat indietro, poi sinistra, 1, 2, 3, 4, indietro, poi destra, 1, 2, 3, 4 e stai basso con il petto, ok, indietro, destra, vado, indietro, sinistra, vado, destra, vado, sinistra, vado, talone, 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 e ancora, talone, talone, sinistra, destra, vado, indietro, vado, talone, ancora, vado, indietro, Ancora 4, andiamo, destra, sinistra, destra ancora, ultima 2, e ultima, indietro, eccellente, questo è Turbo Gag, se volete farlo un'altra volta, fallo pure, o concatena, concatena questo esercizio, un altro ancora, ma fallo almeno 5 minuti al giorno, per avere il massimo del tuo corpo, e perciò della tua vita, alla prossima, ciao! Eccoci di nuovo per un altro esercizio, per il nostro gag, il nostro abdominale, questo lo chiamo, ok, rocking chair, dondolo, perché dondoliamo da dietro, avanti, allora, indietro, stendo, su, e tengo, ok, dobbiamo fare solo 5, indietro, stendo, e tengo, Abdominali molto, molto tesi, ancora 3, vado, e torno su, tengo, ancora 2, tengo, ultima, e tengo la posizione, tieni, e relax, ricuperi un attimo, ok, che dobbiamo ripetere un altro 5, ricordi che l'ombelico è sempre attaccato alla tua colonna vertebrale, addominali molto, molto tesi, ok, grandi sorrisi che state facendo un lavoro eccellente, ok, siamo pronti, l'altro 5, e indietro, 5, su, e tengo, e 4, su, 3, su, ancora 2, vado, e su, e questo è l'ultimo, e tengo, relax, eccellente, un altro esercizio fatto insieme, complimenti, ecco un altro esercizio per il nostro addome, è la nostra gag, il nostro turbo gag, allora scendiamo giù, andiamo nella posizione di 100, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, biciclette, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e di nuovo, e 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, eccellente ragazzi! Ecco un esercizio eccellente per il vostro basso abdome, allora vi chiedo di mettere le mani sotto le notiche, ok, e cominciamo a proprio fare una forbiciata, ok, forbiciate abdominali sono tesi, 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 ok, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop, divarica, e batti i piedi. E relax, e allora facciamo un'altra volta, di nuovo giù, andiamo, 8, 7, 6, tieni gli addominali tesi, 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 4, 3, 2, divarica le punte, e batti i taloni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax! Ci manca ancora uno, gli addominali rimangono tesi, ok, se ti devi interrompere, interrompi se è necessario, però poi ributtati nella mischia appena possibile, ok? Rifacciamolo, ottima volta, mani sotto i fianchi, e siamo pronti, andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, divarica le punte, e talone contro talone, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax! Ricupero, e ti aspetto nel prossimo esercizio, insieme, per il nostro Turbo Gag!